oltre ad un profondo rinnovamento delle scienze sociali e psicologiche. Insieme con i grandi scienziati Norbert Wiener, Warren McCulloch, John von Neumann, Bateson elabora la teoria cibernetica della comunicazione. Nella visione cibernetica, ogni sistema organizzato si caratterizza per la coordinazione delle sue parti componenti e per il controllo che alcune di esse esercitano su altre attraverso meccanismi di scambio di informazioni di tipo circolare. Il feedback è il concetto basilare di questa scienza. Feedback positivo quando un messaggio attiva risposte che amplificano il movimento di un sistema nella stessa direzione. Per esempio, quando ad una sfida si risponde con una sfida superiore, quindi ancora una nuova sfida e così via, fino alla violenza. Feedback negativo quando la risposta è una disattivazione dell'amplificazione per ritornare ad uno stato di equilibrio. Per esempio, quando ad una sfida si risponde con un sorriso e la nuova risposta è prima di sorpresa e poi una risata, fino alla calma. Le idee della cibernetica furono per Bateson una vera e propria rivelazione di come potessero funzionare veramente tutte le forme di vita e restarono la base di tutto il suo lavoro scientifico successivo. Come ho detto, ci sono tre mondi. Per il momento mettiamo da parte il primo mondo, il mondo delle cose fisiche, e occupiamoci degli altri due. Uno, il mondo interno è il mondo del pensiero e dell'apprendimento. E due, il mondo esterno è il mondo dell'evoluzione. E la prima cosa da dire su questi due mondi è che si somigliano moltissimo. Vediamo prima il mondo esterno, il mondo dell'evoluzione. Oggi in biologia si sa molto sull'evoluzione del cavallo. Il Museo Americano di Storia Naturale possiede centinaia di scheletri fossili di cavallo che segnano il cammino seguito dall'evoluzione per giungere dall'Eoippus, un animale con cinque dita nelle zampe anteriori e posteriori, probabilmente col piede morbido e grande più o meno come un cane di taglia media, fino al cavallo attuale, che ha un solo dito per piede. Quattro dita sono scomparse, una è rimasta, munito di una grande unghia, alla cui estremità c'è lo zoccolo. La dentatura è cambiata moltissimo e ora al centro ha uno spazio vuoto, tanto che ci si può infilare una penna e lì al centro il cavallo non può mordere e ha una faccia lunga lunga proprio da cavallo. Quindi ne sappiamo un bel po' sul suo aspetto e sul cammino che l'ha portato sin qui, giudicando in base agli scheletri di tutti i cavalli. Orbene, in verità, questa, sapete, non è la storia dell'evoluzione del cavallo e non è il cavallo la cosa che si è evoluta. Quella che si è evoluta in effetti è stata una relazione tra cavallo ed erba. Questa è ecologia. Se vogliamo un prato all'inglese, che è l'equivalente suburbano di una pianura erbosa, bisogna che compiamo certi passi. Prima di tutto bisogna comprare un tosaerba, che è l'equivalente degli incisivi del cavallo. E il tosaerba è necessario per evitare che l'erba vada in semenza. Se va in semenza l'erba muore, pensa di aver compiuto il suo dovere e muore. Quindi le impediamo di andare in semenza con la macchina. Poi, se vogliamo una zolla erbosa compatta, dobbiamo pigiarla. Quindi ci si deve procurare un rullo. E questo è un surrogato degli zoccoli del cavallo. E da ultimo, se vogliamo avere proprio un bel prato, andiamo a comprare un bel sacco di letame, che sostituisce il posteriore del cavallo. In realtà, quindi, in un modo o nell'altro facciamo finta di essere un cavallo, per ingannare l'erba, e persuaderla a fare ecologicamente ciò che farebbe se su di lei vivessero degli animali con gli zoccoli. Quindi l'unità di quella che viene chiamata evoluzione nel mondo esterno non è in realtà questa o quella specie. È tutto un sistema interconnesso di specie. E questa è la danza esterna. E la danza interna è più o meno simile. Dopo le conferenze della Macy Foundation, Bateson ottiene dei fondi per la sua ricerca indipendente, slegata da ogni velleità o responsabilità accademica, e rivolge la sua attenzione alle dinamiche familiari implicate nella schizofrenia. Dirige un gruppo di psichiatri per circa 14 anni, fino ad arrivare alla formulazione della teoria del doppio vincolo, che tanta importanza avrà per informarsi di una nuova mentalità psichiatrica. L'idea fondamentale, che sta alla base del suo modo di interpretare i processi di comunicazione di qualunque tipo, fra soggetti di qualunque natura, uno schema teorico entro il quale tutta la sua multiforme attività può essere inquadrata, fu quella di distinguere il contenuto esplicito di un messaggio dal metamessaggio che inevitabilmente lo accompagna. Il metamessaggio è un genere di messaggio che ha la funzione di segnalare al destinatario il contesto entro il quale il messaggio esplicito assume significato. La teoria del doppio vincolo, formulata nel 1956 come possibile causa della schizofrenia, afferma che, in sostanza, se una persona è esposta continuamente a comunicazioni contraddittorie, senza che possa sottrarvisi, può incorrere in gravi patologie psichiatriche. Esempio tipico quello di una madre che accusa il figlio di non amarla abbastanza, ma accompagna questa affermazione con atti verbali e non verbali, movimenti del corpo, tono della voce, eccetera, dai quali risulta inequivocabilmente che essa teme di essere oggetto di gesti di affetto che la coinvolgerebbero eccessivamente. Dopo aver messo in guardia gli psichiatri americani dal considerare la teoria del doppio vincolo come un preciso strumento terapeutico di sicura portata, il concetto di doppio vincolo o doppio legame divenne successivamente, per Bateson, un principio assai più generale, valido altrettanto bene per spiegare l'espressione artistica o il gioco, oltre alle manifestazioni patologiche psichiatriche. Eccola lì che zampetta i tuoi piedi, disse la zanzara. Alice tirò indietro i piedi un po' allarmata. Puoi osservare la farfalla pane e burro. Le sue ali sono fettine sottilissime di pane spalmato col burro. Il corpo è un pezzo di crosta e la testa è una zzoletta di zucchero. E di che cosa si nutre? Di tè leggero con panna. Una nuova difficoltà sorse nella mente di Alice. E se non ne trova? Chiese. Allora muore naturalmente, rispose la zanzara. Ma è una cosa che le deve capitare molto spesso, osservò Alice pensierosa. Le capita sempre, disse la zanzara. Dopodiché Alice restò silenziosa per un paio di minuti, sovra pensiero. E ora vediamo la danza interna. Ora, immaginiamo di essere dei paleontologi, sapete, quelli che studiano i dinosauri e cose del genere. Ebbene, potremmo studiare le farfalle pane e burro fossili e domandarci perché si estinsero. La risposta non è che si estinsero perché non riuscivano a trovare il cibo. La risposta è che si estinsero perché erano prigionieri di un dilemma. La farfalla pane e burro muore di un doppio vincolo. Non dei particolari traumi dovuti ad una testa sciolta nel tè leggero e neppure morta di fame, bensì dell'impossibilità di un adattamento contraddittorio. È una faccenda curiosa perché nel suo complesso la lingua, così come siamo abituati ad usarla, presuppone che si possa parlare di questo e degli usi di questo e dei singoli fini e che dato l'effetto di questo e così via, così via. E proprio al centro di questo modo di dire le cose c'è il nostro uso del pronome di prima persona, io. E se la farfalla pane e burro avesse usato la parola io, che cosa sarebbe successo? Avremmo avuto un dilemma ambulante dovuto alla sua testa.